In Messico conoscerai un patrimonio culturale fra i più interessanti al mondo. Solo qui potrai trovare mescolati fra loro gli influssi di tanti e tanti popoli diversi. Una combinazione che continua a generare arte, architettura, musica, gastronomia. La cultura messicana è vasta e profonda. Popoli precolombiani come gli Azteca, i Maya e tanti altri diedero vita a sofisticate civiltà straordinariamente progredite, come testimoniano i magnifici templi ed edifici che ci lasciarono e che tu oggi puoi ammirare. L'UNESCO ha dichiarato patrimonio dell'umanità nove di questi siti archeologici. Un importante riconoscimento che sta a dimostrare il loro ottimo stato di conservazione. Sono luoghi della cui straordinaria bellezza i visitatori di oggi possono godere. La miscela culturale del Messico si arricchì ancor più con l'arrivo degli spagnoli. Gli abitanti locali e gli europei lavorarono insieme per costruire le cattedrali, i conventi ed i palazzi che caratterizzano le nostre città coloniali. In Messico la cultura è viva. Alcuni di questi edifici coloniali sono stati trasformati con il massimo rispetto in hotel e ristoranti, i cui ospiti hanno oggi il privilegio di poter godere di luoghi unici e carichi di storia. I messicani sono da sempre gente creativa ed innovatrice. La nostra musica, l'architettura, l'arte e la letteratura sono diverse da quanto puoi trovare in altre parti del mondo. La cucina messicana è forse il prodotto più facilmente fruibile in mezzo a tanta ricchezza culturale. La nostra gastronomia unisce ai condimenti e ai metodi della cucina preispanica gli ingredienti di origine europea e raggiunge risultati squisiti sicuramente memorabili. L'ospitalità costituisce una parte importante della cultura messicana perché andiamo molto fieri del nostro patrimonio e siamo ben lieti di far conoscere a chi ci viene a trovare il meglio del nostro paese. Con tale sorprendente ricchezza di bellezze culturali, combinare le diverse attività in Messico risulta davvero facile. Puoi nuotare nel mare la mattina e visitare una cattedrale coloniale nella stessa giornata o scalare una piramide per poi cercare l'avventura fra le rapide di un fiume. Siamo certi che la nostra diversità archeologica e coloniale, i nostri musei e la nostra storia ti regaleranno delle esperienze che andranno ben oltre la tua immaginazione. Messico. Più di quanto immagini.